Arriva una super regolamentazione estremamente rigida sulla questione delle cripto da parte dell'Unione Europea per l'ennesima volta, speriamo non passi così alla fine del mese di aprile, dovrebbe iniziare tutto l'iter legislativo e quant'altro, andiamo a vedere oggi quelli che sono dei punti fondamentali, soprattutto ragionando su alcune cose che veramente ragazzi sono terrificanti se ci pensiamo bene, però in ogni caso speriamo poi di comprendere meglio cosa sarà, cosa passerà, nel frattempo però Bitcoin in questi due giorni, Ha reagito bene, ha reagito bene a cosa? Ad una chiusura di alcuni short che sono stati chiusi, 1500 Bitcoin circa, sono stati liquidate queste posizioni in short, hanno dato il motivo per fare questa impennata nella giornata di ieri che ha portato nuova linfa un po' al mercato, cioè ha riportato Bitcoin sempre sui livelli di massimi. Ma noi lunedì, proprio lunedì, nel video ragazzi del lunedì vi avevo accennato a questa possibilità per questa settimana di sfruttare appunto questa strategia, vi rifaccio vedere quello che è il grafico che abbiamo visto lunedì, eravamo in questa zona, tra le altre cose io ho pubblicato il video che queste candela non le aveva neanche fatte, qualcuno di voi mi era anche iscritto e ha detto Mauro ha fatto esattamente la stessa cosa, io ho detto sì ma magari ci riprova, infatti ci ha riprovato e qui ragazzi vi avevo indicato la possibilità che il mercato stesse appunto in questa barra per la settimana e la possibilità di utilizzare una strategia classica di barra di congestione, cioè quella di comprare sui livelli di ribasso alla minima inversione, in questo caso a questa candela qui, perché la candela di inversione sul grafico orario è avvenuto a 27.300 e poi stare sul mercato, rivendere quando ci avvicinavamo in pratica in questa zona. In sostanza ragazzi, lo trovate nel video di lunedì, questa operazione già andata in take profit è finita nell'arco di un giorno, perché è interessante sempre guardare queste cose, cosette da un punto di vista di trading, ci sono sempre delle opportunità, poi c'è anche un modo di un po' ragionare sulle cose, fare formazione eccetera, a parte tutto questo ragazzi, proprio il mese di marzo per me, per le mie strategie, quelle che condivido in academy è stato un mese stellare, sono molto contento di questo perché da dicembre che stiamo facendo un grande lavoro in academy, io condivido tutte quelle che sono le mie strategie, ma non è sempre facile oggettivamente seguirle, adesso proprio ho anche aumentato la trasparenza pubblicando anche altri dati, 32% di rendimento sulla strategia mensile che abbiamo pubblicato in academy è il più alto da un anno e mezzo come rendimento mensile, che è una strategia che fa un'operazione e due al mese e poi addirittura un più 4% dalla nuova, nuovissima strategia settimanale che ho iniziato a pubblicare da un mese, un più 4% proprio grazie a questa operazione che vi ho fatto vedere ragazzi, poi ci sono le hold che ancora sono long, insomma in academy stiamo facendo anche un grande lavoro ragazzi, soprattutto perché ci siamo molto focalizzati nell'unire quelle che sono negli studi ciclici che mi vedete fare qui davanti a voi più volte e quelle che sono le tecniche di trading, tal riguardo ne ho parlato proprio ieri ragazzi nel webinar sulla analisi ciclica che è andato in maniera insomma egregia, in maniera stellare a dire la verità perché eravate tantissimi e per un webinar di formazione di questo tipo pesante pesante, eravate tanti ragazzi, ma io sono molto contento di questo e poi moltissimi di voi mi hanno chiesto per quanto riguarda le nuove offerte, le offerte di primavera che dureranno solo 4 giorni ragazzi, quindi chi vuole approfittare di queste offerte qui perché sapete che poi il trading on non ne fa praticamente mai, ne fa 3 o 4 all'anno in totale e questa è secondo me l'occasione, una delle opzioni migliori, ricordatevi che tra le altre cose è incluso l'academy per 3 mesi anche in queste offerte e soprattutto c'è il nuovo modulo fresco, nuovo, giovanissimo, iper figo della della analisi ciclica ragazzi, è basic ovviamente per chi di voi è già formato sulla ciclica, però vi impronta, vi dà un orizzonte temporale, una logica operativa, insomma un mindset e quello secondo me è la cosa più importante, vi lascio il link in descrizione, solo 4 giorni ragazzi, mi raccomando se volete fare il salto avanti in termini qualitativi, in termini operativi quindi non vi fate scappare queste cose, poi all'interno della pagina trovate tutte le info su cosa ci sta dentro un mare di roba, veramente un macello di roba, siamo arrivati a livelli incredibili allora parliamo di questa questione legata alla regolamentazione, ma insomma ragazzi, allora sono, è nato un organo a livello europeo relativo alla regolamentazione della questione che viene definita antiterrorismo, vabbè, vabbè, antiterrorismo, ok, siamo nell'antiterrorismo però poi alla fine quello che fanno è obbligare le banche a dirvi e dire buon vita, morte e miracoli di tutti quelli che sono gli spostamenti monetari all'interno dell'Unione Europea cioè allora questo è quello che è uscito fuori da questa, insomma, disegno di legge e quant'altro in particolare ci sono delle questioni legate anche al settore delle cripto che subisce, subisce veramente tantissimo una restrizione da questo punto di vista, c'è da dire anche che in maniera corretta bisogna dire che queste cose erano già applicate però ai normali istituti di credito, ma gli exchange subiscono una sorta di aggressione a cosa? al fatto che se voi spostate su un exchange dal vostro wallet privato, quindi da un wallet che non ha un KQC, spostate 0, cioè 0, 1 dollaro allora loro devono chiedervi da dove arrivano, che cosa fate, chi siete, perché c'è quella roba lì, cioè devono identificare la transazione follia, una cosa del genere, anche perché poi come sempre bisogna andare a capire come si va a mettere in pratica una cosa di questo tipo, ma non è finita qui perché c'è anche la questione per i commercianti che se per caso hanno deciso di provare a utilizzare le criptovalute sopra i 1000 dollari anche loro devono farvi il KQC, quindi il commerciante deve mettersi il cappello del vigile urbano e deve richiedervi la carta di identità, il KQC e poi magari firma il documento e lo spedisce vabbè io sorrido, ma ragazzi per non piangere a dire la verità poi ognuno ha bisogna vedere intanto qual è poi l'applicazione vera, quando arriverà questa norma che da fine aprile dovrebbe entrare in discussione eccetera, però queste sono norme estremamente stringenti cioè molto anti-libertine, diciamo così, perché si va praticamente a obbligare tutti a non poter utilizzare il wallet custode, cioè il vostro wallet privato di cui detenete nei chiavi private. Allora una cosa del genere è ai limiti della praticamente lesione totale del diritto della price. Allora purtroppo l'equilibrio è sempre fondamentale in questo ambito, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate su questa cosa, magari chi è all'interno del settore delle criptovalute guarda queste normative con un occhio estremamente negativo poi magari chi è il legislatore dall'altro lato sa che ci sono i traffici, il fatto del terrorismo che poi il terrorismo finanzia il gritto, ma insomma abbiamo già visto mille volte che questa cosa è una pandonia colossale, magari c'è una parte ma sicuramente non è quella la parte principale anche perché l'entità monetaria non è sufficiente, insomma tante altre cose ragazzi comunque queste normative bisogna andare ad approfondire, sono nuovi colpi alle criptovalute ma soprattutto ci indicano una strada, una strada che secondo me è stata già presa dagli Stati Uniti ma l'Europa come sempre esagera di più perché da noi è una burocrazia gigantesca e questa strada andrà discusa, andrà affrontata, entro pochi mesi ragazzi sono arrivate quest'anno Bitcoin e le cripto in generale stanno affrontando la tempesta perfetta tutto quello che noi ci siamo sempre detti dal 2018 in poi, da quando siamo in compagnia ragazzi la tempesta perfetta, le regolamentazioni, i fallimenti, la disillusione del settore, imbrogli vari eccetera una crisi economica, il rilancio dei tassi di interesse stellari, l'inflazione stellare quindi tutto quello che erano le fasi negative macro, tutte quelle che invece erano le fasi negative solo cripto quindi regolamentazioni quant'altro e fallimenti, tutto insieme in questo grande grande blocco che dove siamo, noi dove siamo comunque in questo momento a 28.500 allora Bitcoin tira fuori le del toro e vai su per l'autostrada, questo è il mio auspicio perché alla fine è solo grazie a queste difficoltà se poi si ne esce vincitori vediamo che succede, questa è la questione io non sono molto favorevole come sempre alle regolamentazioni perché i mercati liberi sono da sempre stati oggetto poi di un miglioramento quindi si è visto insomma ampiamente questa cosa qui però poi sapete com'è la questione ragazzi, c'è sempre un limite a tutto allora vi lascio anche un articolo di criptovaluta.it che spiega questa questione loro ne hanno parlato anche da un punto di vista di opinione personale quindi qui potete magari, la mia opinione loro è fortemente negativa per ovvi motivi insomma sono avanti in cripto però qui potete anche magari confrontarvi con altre cose e viene spiegato anche un po' la questione di tutto quello che si sta tentando di fare di quest'organo centrale antiriciclaggio dell'Unione Europea eccetera e poi c'è anche l'articolo di CoinTelegraph va bene, allora detto questa questione qui andiamo a vedere un po' di grafici che preferisco vi ricordo che domani ci sarà il clou sostanzialmente della questione legata al PIL e richieste di sussidi e disoccupazione ma già dai dati che sono appena usciti in questo momento cioè le scorte di petrolio tendenzialmente proprio affondate vi fanno capire come la questione recessiva non esiste proprio nell'ottica questo primo semestre dell'anno 2023 domani escono PIL e richieste di sussidi e disoccupazione secondo me indicatori molto importanti e poi dopo domani resta ancora l'IPC dell'Europa che deve essere assolutamente deve scendere assolutamente sotto l'8% e avvicinarsi a questo dato il più possibile nel frattempo però ragazzi come mi dicevo abbiamo visto Bitcoin tornare a salire con questo super balzo che è partito proprio dal livello che vi avevo indicato nel video di lunedì come possibile strategia settimanale ed in effetti ha fatto questo ora la possibilità che Bitcoin in questa stessa settimana vada a breccare il livello dei 29 che adesso è diventata la sua super resistenza allora devo aprirvi l'altro grafico per farvi vedere queste cose c'è e c'è ancora e secondo me sarà strettamente dipendente dal grafico di Nasdaq 100 perché sarà tutto legato allora siamo ancora nel ciclo mensile a metà di questa struttura del ciclo mensile la possibilità di Bitcoin di andare a sviluppare nuovi massimi non mi piace molto questa swipe questo shadow che vedete qui perché in realtà non esiste c'è la solo Bitstamp quindi la vediamo noi ragazzi però se utilizzate un altro chart non ce l'ha però se utilizzate un altro chart mi cambia tutto poi le figure cicliche quindi non ve la metto però l'idea di andare a fare un nuovo massimo in questa zona secondo me i primi di aprile resta valida mancano 2-3 giorni la giornata di domani potrebbe dare il là e poi concludere magari con un massimo proprio nella settimana nei primi di aprile vediamo ragazzi come vi ho già spiegato questo 0.3 di Fibonacci tra le altre cose come ritracciamento è una nuova resistenza superata questo livello di resistenza Bitcoin si infilerà all'interno di questa maxi area di oscillazione che va dai 29 circa qualcosa a 35 questa è una maxi area di oscillazione dove il prezzo medio è 32 circa 32.000 dollari e Bitcoin probabilmente resterà lì o forse addirittura potremmo anche dire tenterà di fare proprio i massimi dell'anno ma di questo poi ne andremo a discutere mi preme anche mostrarvi la questione di Ethereum perché nella giornata di ieri e l'altro di ieri ha dato un segnale di forza anche Ethereum Ethereum ha una questione da sbrogliare ragazzi e deve farla in tempi brevi cioè prima di maggio-giugno perché su Ethereum abbiamo il dubbio se l'annuale sia iniziato sul minimo di giugno oppure se qui ha fatto una figurazione che nell'analisi ciclica viene definita una lingua di buyer corta in questo caso molto lunga tempistica ma corta come ampiezza e abbia chiuso in effetti con Bitcoin a novembre allora sono dei tecnicismi che ovviamente solo chi ha studiato ciclica può capire però qui non vi servono ragazzi perché non avete fatto il webinar di ieri che si basava proprio su questo ragazzi e vi ribadisco di link in descrizione per quanto riguarda le offerte anche perché queste cose ne parlo poi nel modulo questa è la settimana dell'oscillare insomma i miei corti ragazzi va bene allora trovate tutti i link in descrizione mi raccomando usate l'offerta però in questo caso su Ethereum non abbiamo questa informazione perciò secondo me la soluzione migliore è che Ethereum vada a breccare questo massimo e a prescindere che sia in un caso o nell'altro caso non ce ne frega più niente perché una volta che ha breccato questo massimo per dei concetti di natura statistica che riguardano l'analisi ciclica questo annuale che sia iniziato qui o che sia iniziato qui diventa tendenzialmente un annuale rialzista ciò significa che scendere sotto questi minimi non ha una probabilità elevata quindi fanno cose del genere e rigiochiamo la partita se invece teoricamente non ci arriva mai a questo livello e un po' di rischio ancora c'è c'è da dire che insomma stiamo reggendo bene questa fase da novembre in poi quindi un po' magari potremmo anche insomma stare più sereni però le crypto ci hanno anche abituato a disastri di mezza giornata perciò io preferisco vedere confermati questi dati Ethereum quindi ha intanto questo livello di 1860, 1850 scusate e 1810 da superare e secondo me se brecca questo livello va a fare nuovi massimi perché in questa zona non c'è volume non c'è niente ragazzi questa è una zona vuota in termini di volume perciò in una consistenza in un trend consistente come quello attuale Ethereum spingerà probabilmente ai 2000 dollari e questo è tutto collegato perché abbiamo collegato sia Ethereum sia Bitcoin che è pronto vedete ad avvicinarsi a questa zona zona che poi sarà l'obiettivo che insomma stiamo seguendo ormai da tre mesi ad apri iniziamo un quarto mese quindi inizio anno a dire la verità da dicembre però più o meno dicembre qualche giorno da dicembre e da lì in poi la partita è fatta cioè quello che era la prima fase di rialzo del ciclo annuale di Bitcoin e del non si sa se annuale nuovo o meno di Ethereum e questo tra l'altro ragazzi ve lo dico proprio chiaro a me piace tanto perché quando vedo anche queste cose strane dei mercati è anche una cosa nuova da imparare per noi stessi per me e per tutti perché questo tipo di figurazioni insegnano anche delle cose diverse perché Ethereum ha avuto all'interno di questa fase il suo passaggio a proof of stake e quindi è un cambio radicale che ha potuto in effetti creare un'anomalia tecnica come questa fase di rialzista che poi è stata riassorbita quindi città e siccome solo le cripto hanno queste cose allora figata proprio una cosa del genere per chi aumenta i studi ciclici del trading in generale andrà a vedere come si comportano i mercati questa è grande esperienza va bene allora io sono propenso all'idea che se riusciranno a fare una cosa del genere dovranno farla un po' prima della chiusura di questo ciclo mensile che teoricamente dovrebbe chiudere nella prima decada di aprile la soluzione più rialzista sarebbe breakout di questa zona raggiungimento dei 2000 dollari chiusura del ciclo mensile e poi massimo vero insomma prima della chiusura della o semestrale o annuale appunto per ethereum molto bella questa fase delle criptovalute e ragazzi la seguiremo va bene allora detto questo io per oggi diciamo che un po' ci siamo detti tutto i livelli di resistenza sono sempre gli stessi faccio solo vedere nasdaq perché nasdaq è anche lui lì ragazzi guardate sono tutti simmetrici in queste cose quindi anche nasdaq che ha iniziato un nuovo trimestrale se deve andare a breccare ci dai là e guardate un po' magari ce lo dà proprio indirittura d'arrivo di questa nuovi dati che magari usciranno domani o dopo domani oppure se magari qualcuno come la fed dice qualcosa una zona del genere sarà festeggiata dalle cripto con nuovi massimi di periodo e anche di ethereum secondo me tra le altre cose ho notato ho notato ma ancora non è così confermata che c'è stato un po' uno switch di un po' di capitalizzazione da bitcoin a qualche cripto nell'alco degli ultimi due giorni questa cosa qualcuno di voi l'ha già vista se l'avete vista insomma scrivetemelo sempre nei commenti così ci confrontiamo ragazzi è interessante perché potrebbe in effetti innescarsi il famosissimo concetto che avviene nelle burrani all'inizio quando bitcoin raccoglie e poi trasferisce le cripto è una cosa che si faceva tanti anni fa ma chissà funzioni ancora una volta vedremo vedremo con calma perché poi saranno i dati a dircelo detto questo ragazzi vi ricordo le super offerte non bene lasciate scappare anche perché il numero è chiuso poi i coupon finiscono non so quanto ne mancano sono 50 comunque erano tanti ne hanno messe tanti però insomma non ve li fate scappare perché non so quanto restino questi percorsi e soprattutto andate a leggere tutto quello che c'è scritto in quest and ending così vedete quale nozioni potete poi andare ad approfondire detto questo io vi ringrazio vi saluto ci vediamo venerdì e ciao